Ascolta, vedi che con Samy non si fa più niente perché abbiamo dovuto ammazzarlo, perché l'ha mortificato di nuovo Omar, l'ha rotto i bracci e ce li ha tutti rotte. Non abbiamo avuto niente da fare, ammazzarlo. Se non ti convieni vieni qua, guarda vedi come è combinato mio marito. Sono già nati due cani, mio marito è entrato in mezzo, lui si è rivolto verso mio marito e la... L'ha ucciso Omar, Omar ha ucciso Samy! Non posso crederci, non posso crederci, l'ha ucciso il mio cane! Vale l'ha detto che sia, vale l'ha detto sempre! Grazie! 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 Grazie!